Hai scelto il tuo nome di pastezzo? Sì! Cazzo non c'è l'acquaglia col pagosso? Luglio di passione. Sceglierò il nome che vada da 1 a 8. Re! Re! Adesso la voce fuori campo, vincerò per te il terzo condimento e poi sarà anche quello del prodotto. Io preferirei davvero che tu evitassi di giudicare le persone per come appaiono o per come si vestono o per come camminano o comunque di giocare sporto. Va bene? Ah! E piccati questo nella tua testa dura. Donna uguale persona. Uomo uguale persona. Tizio noioso uguale tizio noioso. Nessuno è il meglio di un altro. A meno che non stiamo parlando di moda e mi spiace, ma ho dato questo dono alle donne e a qualche uomo che capisce la differenza tra magenta e fucsia. Giusto. Giusto, è vero. Ciao! 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 Ciao!